e ora, tutte le squadre che sono qui sul pizzo, ti ringraziamo, ho l'onere di ringraziare, in nome di Comet, alla 20e Coppa Santa, qui in Spagna, benvenuti! Comet veranstaltet solche Turniere seit über 30 Jahren und wir haben in dieser Zeit mehr als eine halbe Million Fußballer und Fußballerinnen zusammengebracht und deswegen freuen wir uns auf dieses Turnier unter unserem Motto abhalten zu können, das heißt all together, das heißt friedlich miteinander auf und neben dem Platz und da werdet ihr auch sehen, dass ihr hier in den nächsten Tagen Freundschaften schließen werdet, die weit über diese Zeit hinaus halten werden. dafür arbeiten wir und dafür freuen wir uns hier auf die nächsten Tage. und dann machen wir Freunde, Freundschaften, die dauern lange Zeit mehr als dieser Turnier. Danke! Thank you! Comet Internacional organiza torneos de fútbol base desde hace más de 30 años, más de medio millón de jugadores han participado en nuestros torneos y para nosotros es un gran placer tener hoy aquí a tantos jugadores de fútbol, que esperamos, que esperamos, que se lleven como recuerdo, el haber conocido a otras personas, a otras culturas, esperamos que este torneo sea la perfecta excusa para hacer nuevos amigos, este es el objetivo realmente de Comet Internacional, de la Sociedad Sin Ánimo de Lucro Comet Internacional. Son más de 30 años que Comet Internacional organiza torneos de fútbol, más de medio millón de personas han participado a este torneo. El espíritu de Comet es el que de conocer nuevos amigos, que sea esta vuestra experiencia indimenticable una ocasión para hacer amigos, para encontrar personas que quizás no encontrarás más. Por tanto, deseamos una buena permanencia en España, a los dirigentes, a los jugadores y a los acompañadores. Bienvenidos! El espíritu de Comet Internacional, de Comet Internacional, de la Ciudad de Comet Internacional, de la Ciudad de Comet Internacional. e come dicevole, non è possibile senza la supporto della comunità, per favore un grande applauso e un grande grazie a la comunità Pineda de Mar! e questo non sarebbe possibile senza la scuola della comunità Pineda de Mar con la polizia, con la scuola di emergencia quindi grazie alla scuola di Pineda de Mar, un grande applauso e grazie! è un'organizzazione molto difficile e speriamo che a pesar di tutto va bene abbiamo equipi partecipanti di Suiza, Italia, Francia, Alemania, Canadà, Israel, Algeria e España a tutti a loro vi desideriamo un torneo esitoso, deportivo e che facciano molti amici e anche per finalizzare vorremmo dar las grazie al Ayuntamento di Pineda specialmente alla Polizia Local di Pineda, perché voi, a lo mejor, non l'avete visto però nel desfile ha avuto quasi 20 polizias aiutando alla organizzazione e necessitiamo questa cooperazione e vogliamo darles las grazie per la sua aiuta un forte applauso al Ayuntamento di Pineda de Mar! Nella ventesima edizione della Coppa Santa ci sono più di 160 squadre che partecipano delle varie nazionalità dall'Algeria, dall'Israele, dal Canada, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Italia in questi tre giorni organizzeremo più di 500 partite pertanto sarà uno sforzo molto duro ma siamo sicuri che con l'aiuto di tutti con la partecipazione assidua dei dirigenti e degli organizzatori avremo un ottimo torneo e non dimentichiamo di ringraziare soprattutto il Comune di Pineda de Mar e la Polizia Locale di Pineda de Mar come avrete notato per gestire una massa critica come questa abbiamo bisogno della collaborazione e ringraziamo tantissimo la Polizia Locale e il Comune di Pineda de Mar grazie e ora stiamo ascoltando i anzoni nazionali dei paesi per favore per favore stanno ascoltando i anzoni stiamo ascoltando i anzoni nazionali il primo anzoni nazional è del host di Spagna ora vamos a ascoltare i anzoni nazionali di tutte le nazioni presenti a questo torneo il primo anzoni nazional è Spagna il primo anzoni nazional è Algeria Algeria il primo anzoni nazional è il primo anzoni nazional è per Canada Canada il primo anzoni nazional è per la Il prossimo canto è per Germania. Il prossimo canto è per Germania. Il prossimo canto è per Germania Il prossimo canto è per Israele. Il prossimo canto è per Francia. Il prossimo canto è per Germania. Il prossimo canto è per Italia. Grazie. 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 Grazie a te시. Grazie. 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 Grazie a tutti per aver partito i premios di tutti i italiani. E ora facciamo un grande circolo all'interno del campo. Por favor facciamo un grande circolo all'interno del campo. Questa è la scena all'interno del campo.